Sì, la provincia di Arezzo ormai, secondo i nostri conti, circa il 67% degli abitanti è ormai amministrato dal centro-destra. È di fatto la provincia più a centro-destra di tutta la Toscana. Fratelle d'Italia festeggia il risultato elettorale delle amministrative 2023 in terra retina. Il vero ribaltone si è avuto alla Terina Pergine-Valdarno, comune storicamente amministrato dalle forze di centro-sinistra o comunque moderate e che adesso vira a destra con Jacopo Tassini. È stato importantissimo quello che è stato fatto, già cinque anni fa dove purtroppo forse la questione ancora della fusione aveva creato delle grosse problematiche e non aveva consentito a un centro-destra di poter vincere. Noi riteniamo che Jacopo Tassini sia la persona giusta per rimettere la popolazione al centro dell'azione politica e soprattutto di dare quella capacità agli abitanti sia di la Terina di Pergine di sentirsi una comunità e provare a vedere se questa fusione possa dare dei frutti positivi. Secondo noi è stato al tempo un errore ma oggi il Comune è unito e dobbiamo cercare di ricostruirlo in maniera armoniosa dando un senso di comunità che il PD con le sue scelte non è riuscito sicuramente a dare ma delle due anzi a distruggere. Una tornata elettorale un po' più aspra a Capolona dove i due schieramenti del Comune del Basso Casentino vedevano da una parte il sindaco uscente di centro-destra Mario Francesconi e dall'altra lo sfidante di centro-sinistra Sariodini che davvero non si sono risparmiati anche con le parole. Si è cercato di attribuire a Mario Francesconi delle responsabilità non sue su delle tematiche che ahimè in verità vengono sempre da comunque scelte macro politica economica che ben poco hanno a che vedere con poi la capacità di incidenza di un sindaco che a fronte di permesse o richieste anche deve dare il sindaco. Però quello che è importante è che Mario abbia altri cinque anni per continuare nella sua opera e soprattutto nel ripristinare quella sua immagine facendo chiarezza su tante cose dette che in verità sono delle vere e proprie bufale. E infine Caprese e Michelangelo a prevalere qui è stata la lista trasversale del neosindaco prima donna per il Comune della Valtiberina Marida Brogialdi. Caprese e Michelangelo è una lista unica che vede presenti sia esponenti di centro-destra che di centro-sinistra con una connotazione civica ci risulta che almeno la metà, forse qualcosa di più, dei candidati eletti comunque vengano dalla precedente esperienza dell'ottimo sindaco Claudio Baroni che almeno noi abbiamo sempre stimato. Dovremmo vedere come e in che modo vorrà impostare la sua politica sicuramente di ambito civico ma in qualche modo con qualche legame in più con l'area di centro-destra piuttosto che con l'altra area.